Innanzitutto ringrazio l'amministrazione e l'organizzazione per averci coinvolto. Dopo due anni dove praticamente l'associazione non ha potuto, a causa Covid, proseguire con il programma che di solito attuiamo nel nostro comune e siamo appunto felici di ripartire, ci viene chiesto un intervento diciamo anche abbastanza facile, tra parentesi, che è mostrare la cordialità della ristorazione locale e quindi ci verrà credo spontaneo nei confronti degli atleti e degli accompagnatori tutti. Quindi è un'opportunità e anche per noi un anno zero perché effettivamente veniamo da due anni dove non siamo riusciti a creare nulla.